Il vertiginoso aumento dei costi del gas e dell'energia elettrica ha già messo in crisi in Sardegna la Portovesma SRL, sta creando problemi a tutte le altre grandi aziende e alle tante famiglie che si trovano a fronteggiare il considerevole aumento dei costi in bolletta. La Lega Sardegna ha depositato una mozione in Consiglio regionale, primo firmatario il responsabile regionale del Dipartimento Energia Michele Ennas, con la quale si propone il ripristino del servizio di superinterrompibilità. Il servizio in questione, reso esclusivamente nei territori delle due isole maggiori, Sardegna e Sicilia, risulta tecnicamente simile all'interrompibilità, ma con una remunerazione economica più alta, ha detto Michele Ennas, che consente di compensare l'assenza di accesso ad altri strumenti e nel contempo soddisfa le esigenze di gestione della rete in sicurezza da parte di Terna, ma che ora, in ottica phase out, risulta sostegno del dispacciamento in sicurezza delle rinnovabili non programmabili esistenti e future. Oggi le aziende energivore insulari subiscono una pesante penalizzazione dal punto di vista dell'equità elettrica rispetto ai soggetti energivori peninsulari, ha aggiunto il segretario regionale della Lega, Dario Giagoni. Quello della superinterrompibilità è un sistema temporaneo, in passato già realizzato, che consente di andare incontro all'emergenza che si sta affrontando sui costi energetici, vista anche la condizione di insularità che la Sardegna vive in materia di competitività. Da parte del nostro gruppo si sta lavorando, ha aggiunto Dario Giagoni, per trovare una soluzione che possa risolvere a lunga gittata il problema energetico, un lavoro frutto di continue interlocuzioni con i nostri rappresentanti a Roma, in particolare il ministro dello sviluppo economico Giancarlo Giorgetti, il senatore Paolo Arrigoni e la sottosegretaria al Mise Vannia Gava, la quale parteciperà al webinar organizzato giovedì con l'esecutivo regionale. In attesa della conclusione dei lavori del cavo sottomarino Tirrenian Link, abbiamo il dovere, ha concluso il capogruppo della Lega in consiglio regionale Pierluigi Saiu, di garantire un riequilibrio dei costi per le aziende sarde. Il tema dell'energia, tanto a livello nazionale quanto a livello regionale, è da sempre centrale nel programma del nostro movimento. Lavoriamo per difendere le imprese sarde e su questa battaglia, ha concluso Pierluigi Saiu, ci auspichiamo di trovare il più largo consenso politico anche dalle altre forze presenti in consiglio regionale.